Salve a tutti ragazzi e bentornati in un video di Silent Hill. Oggi faccio l'introduzione in editing perché questo video era venuto troppo lungo, una quarantina di minuti e ho deciso di staccarlo in due parti. Vabbè detto ciò vi lascio subito al video e buona visione! No 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 scusa torni indietro mi so preso un colpo. Signorina senta io la devo ammazzare però non la prenda male l'ho detto non la prenda male io non lo so ho detto di non prenderla male. Oh guarda è ammazzato pure lei visto che ci sono. Ah e poi anche lei. Lei 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 e anche lei. Scusa Harry Harry. Harry va bravo pure tu. Io t'ho detto di girarti bene. Puoi morire. Grazie molto gentile lei. E salve io dovrei andare di là sa. Vabbè faccio il giro lungo non voglio disturbarla. Ha delle colleghe per caso non so. Se è solo lei. Ah no c'è una collega qui. E vabbè voi volete morire scusate eh. Non voglio essere cattivo ma voi volete morire. Ops. Mi sa che si è offesa. Aia. No no tu ci muoiono. Grazie. Ma no mi ha tirato un altro colpo. Eh 18 bevande. Vi potete ammazzare e risuscitare mille volte adesso. Speriamo che non respawnano subito. Cioè dai io ci devo ripassare. Non vedo niente. Dove. Dove è su? E vabbè dai. E che devo fare? Ormai questa è la nostra interesse. Ma perché non va indietro? Ti ho detto di andare indietro. Stiamo prendendo un sacco di colpi a gratis. Lo abbiamo qui. La chiave per lo scantinato. Ma non ce l'avevamo già. Allora. Comunque serviva venire di qua lui. Dove siamo? Siamo sempre al secondo piano. Giusto? Il terzo piano l'abbiamo visto tutto. Sì. E allora dobbiamo andare proprio allo scantinato adesso. Eh sì. Là era chiuso. Bisognava prendere sta chiave. Allora. Suppondo. Ci hanno fatto venire qua. Ma forza. Mi sapevo. Così mi fa passare che sta la sua collega che mi vuole un po' morto adesso. Grazie. Ma pure qui dai. Chi sta? Chi c'è? Esci fuori. Ah ecco. T'ho visto. No. Ma perché giri così, Harry? Ok. Questa qua è una bottiglia diversa. Che cosa fai tu? Alcol disinfettuale. Vabbè. Lo accetto. Può servirmi. Boh non lo so. A che cosa? Vogliamo dar fuoco a questo posto? Non lo so. Vogliamo fuoco all'infermire? Oggi c'ho le manie da piromane. Dai. Però non c'è nessuno. Perfetto. Però qua ci sarà il jumpscare sicuramente. Vediamo. Non c'è il jumpscare? Non c'è? Io me l'aspetto ancora. Dove sta il rumore? Ma come? L'unica volta che me l'aspettavo non me l'hanno fatto. E uno ci rimane male. Via. Via 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 via. Olè. Abbiamo finito tutto. Beh. Non ci rimane che il seminterrato a sto punto. Me lo vedrei anche tutto. Perché. Mi sa di importante. Tanto è pure piccolo. Prendiamo direttamente l'ascensura. Ma sì. Però. Un attimo. Se mi interrato non vuoi che ci devono stare le... Le babbione qua. Io me la rischio dai. Non possono essere così tante. Se ne stanno tanti insieme può essere un problema. O magari ora me ne corro dentro una porta veloce. No, no, no. Allora. Vai di qua. Eh, ma non è che era tanto meglio, eh. Per un attimo. Visto che qua il tempo si ferma quando esco fuori la mappa. Direi di vedere la Generator Room e la Boiler Room. Ma dove? Ma dove? Quanti ne stavano? Che spavent... No, io lì non c'entro più, va. Ma ve lo sognate. Ma guardate che scemo. Sono ritornato qua. Ah, qua era la stanza dove ho attivato la censura. Dall'altra parte. Sapete cos'è questo? Il martello. Questa qui è l'arma più forte del gioco. Vabbè, a parte la motosiga che è fortissima. Dico, quella lì con due mazzate, le shottate. Quelle infermiere. Ricordo che nel gioco normale le stragi ci ho fatto con quel coso. Beh, magari lo potremo testare. Ok. Ops. Scusate ragazzi, ho avuto di nuovo un contrattempo. Pare che oggi non vogliono che io giochi a Serentil. Cioè, voglio dire, oggi... Ora che sto registrando, è sera. Verso le nuve saranno. E continuano a rompermi le scatole. Ed è anche la vigilia della vigilia. Cioè, oggi è il 23. Io non lo so. La gente non ha niente di meglio da fare. Di sabato sera. Vabbè. Allora, non mi ricordo. Qua avevo aperto la porta. Boh, era chiusa. Mi sa che mi stanno seguendo. Non lo so. Io, nel dubbio, mi ne vado qua. Ah, è qua dove stavano le... Porco, mi si rilastra una bevanda a salutare. Una ontolla. Non lo so. Proviamo ad ammazzarla, questa? Ma sì, dai. Dai, oggi mi sento... No, 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 no. Aia. No, ma ti giri. Guardate, è quella là. Non sa dove andare. Vabbè, questa qui ci deve morire, però. Oh! Oh, e la smetti, ma hai rotto le scatole molti vecchi. Oh! Vedi, da qui ti posso colpire. Scusate. No, non ti posso colpire. Olè. Olè. E olè. Oh! Alla grande. L'ampolla la volevo, eh. Questa qua ti cura tantissimo. Anche se... Non è che ne avevo tanto bisogno, però. La bevanda a salutare mi rimetterà un po' di qua. Mi serve un checkpoint, a dire la verità. Dove cacchio devo andare? Ah, ma la storeroom. Non è che la chiave che ho preso prima era della storeroom. Un attimo, scusate. Fatemi vedere. A parte che non mi curo. Che tanto. E voi a curarsi qua. Allora, avevo la chiave. Eh, storeroom. Vabbè. Il che stavo impazzendo. Dove devo andare? Eh, stava la storeroom. Non me l'ha aperta. Perché giustamente è buio. Questo qui se è buio. Non mi vede la serratura. E non apre da solo. Ha fatto prendere un colpo. Allora. Olè. Ah. Qui siamo al sicuro. Questa non vediamo. Delle bottiglie. Però non mi sembra che le possa raccogliere. Vediamo. No. Qualcos'altro sta. Questa è un'altra bottiglia. Non mi fa prendere. Qui sta. I colpi del fucile. E niente. E un attimo. Questo qua mi sa che si può strisciare. Cioè spingere. Perché stanno i segni come se è stato mosso. Eh sì. Giusto. Porta segreta, eh. Alla grande. Questa qui non me la segna la mappa, vero? Cioè sì. Però non c'è un muro qua nella mappa, vero. E che senso ha? Se è segreto perché la mappa mi dice che la stanza è più grande. Vabbè. Facciamo perdere. Allora. C'è una grata. Però non posso muoverla perché ci sono i rovi. E come facciamo? Le bruciamo. Abbiamo l'accendino. Le bruciamo, no? Anzi. Qua c'è pure l'alcol. Ci buttiamo un bel po' d'alcol. Appicchiamo un incendio a sto schifo di luogo. Sono la ragazza mazzuolo questa merda di cazzo! Allora. No, no, no. Un attimo. Mettiamo le cose in chiaro. Oh. Guarda che bello il fuocherello. Guarda come ci riscalda. Che qua fa un freddo cane. Oh. E abbiamo aperto. Che dici Harry? Ci vogliamo tuffare in una nuova avventura pericolosissima dove forse ne usciremo molto male? Ma sì, dai. Che cos'è da andare storto. Scendiamo, sì. Porta gigante. Qui di certo non ho la mappa. Qui non ho la mappa sicuramente. Guarda ci scommetto quello che volete. Qua sta il guardiano qui che non si muove. E sì, vabbè. E sì, vabbè. Quante. Una porticina. Ah, grazie. Scusi. Posso entrare? Molto gentile. E sì, vabbè. Qui si entra? Dove sto andando? Non lo so. Dove? Ah, grazie mille per esserci morta. Uh, la cassetta. Si può tornare sopra a vedere. Si può tornare sopra a vedere. Perché c'era il videoregistratore all'inizio dell'episodio, più o meno. Vedete? La mappa non c'è. Eh, vabbè. Allora. Qui è pieno. È pieno. Non sta una porticina, una cosa. Sta questa che l'hai rotta. Sta quest'altra più. L'hai rotta. Eh, dai. Tutte rotte sono. Non puoi dirmi che sono tutte rotte. Questa qua è aperta. Ebbè, dove stavano tutte le infermiere dovevano staccionare la pelle. Ma no, 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 no. Ma che mi vuol dire sta stanza, dai? Ma no. Sì, vabbè, metto con te. Ma dai. Non ho queste stanzette troll. Allora non è questa stanza che dovevamo visitare, a quanto pare. Ma una porca miseria di porta. E chiedere tanto una porta. Una. Questa qua è da dove sono venuto. Perciò bisognerà andare da qui. O, sentite al diavolo. Tutte e due venite addosso. Ad un di voi ci muore. More. Ma questa porta l'avevo vista. Allora. Ah, ma qua è pieno di porte. Non si vede da un'altra. E venite. No. Vabbè. Mo' mi devono ammazzare queste due. Davvero, dai. E mo' mi ammazzano. Allora. Non me la sto tanto giocando bene. Ah. Ah. E mo' l'avete capito che dovete crepare, eh. Qui ci sono stato. Qua è chiuso. Qui ci sono stato. Qua è chiuso. Qui ci sono stato. No. Vediamo. No, non ci sono stato. Cosa è questo? Sembra come se qualcuno ci fosse stato qui. La vedo una chiave. Alessa. Va bene. Sì, Alessa. Non è quella che stava nell'intro del gioco. Vabbè. Sì, vabbè. Ho capito Alessa. Io voglio la chiave. Examination room key. Un letto. Cosa ci fa qui? E in effetti qui stiamo in uno scantinato. Cacchio ci fa qui un letto. Che ci mettono i pazienti quelli che... I poveri che non si possono permettere le camere, quelle buone. Sapete qui in America che per ricoverarti ti devi pagare. Vabbè va. Allora, examination room dovrebbe essere di solo. Qui li ho ammazzati tutti. Qui invece no. Nell'altra stanza. Allora, examination room. L'examination room. Qual è? Quella lì. Quella che era chiusa. Però un attimo. C'era la videocassetta? C'era. No, fino a là devo andare. Non mi conviene tanto prendere l'ascensore. È meglio che vado con le scale. E se... Con le scale è meglio. Andiamo. Andiamo con le scale. Andiamo a vedere la videocassetta. È vero? State voi. State voi. Sì, è quella giusta. E comunque l'ospedale credo che sia finito. Sapete una cosa? L'examination room ce la vediamo nel prossimo episodio. Ora l'obiettivo è andare a vederci la videocassetta. E qui, giustamente, voi siete respawnati. Non potete rimanere morti, eh. Magari conviene anche a voi morire del tutto. Come state messi. Va bene. Allora, qui sta il salvataggio pure. Che fortuna. Toh. Mettiamoci su il VHS e finiamo l'episodio. Dai. Niente sull'etichetta. Trovato nel secondo piano dell'ospedale del sotterraneo. Vabbè. Vediamo un po' cosa dice la videocassetta. Ancora... Iniciale, non... Che cacchie... La pelle è... Anche quando io... Boh... Perché... C'è... Boh... Non si capisce un cavolo. Potevate mettermi i sottotitoli come si deve? Non dirò. Per favore. Abbiamo capito tutto! Yeee! Non si è capito una mazza. Cacchio era sta cosa. Vabbè, guardate. Io... Salvo la partita. Così. Dove abbiamo salvato prima, salviamo adesso. E direi che questo è per questo episodio può essere tutto. E dice anche questo qui dovrebbe essere anche l'ultimo video dell'anno. Visto che ci sono, vi auguro già da un buon anno. E ci vediamo in un prossimo video. Da Enderhead qui è tutto. Help sai con gru. Ciao! 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 Grazie a tutti.